Elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici per il triennio 2021-2023. Il 26 luglio dalle 9 alle 18 ed il 27 luglio dalle 9 alle 17 si svolgeranno le elezioni delle rappresentanze studentesche all'Università degli Studi della Basilicata. Votare è importante per te e per il tuo Ateneo. Fai sentire la tua voce su temi importanti quali le tasse universitarie, l'organizzazione della didattica, i servizi agli studenti, la mobilità internazionale. Potrai esprimere il tuo voto online. Sulla tua casella di posta Unibus troverai il link con cui accedere alla votazione utilizzando le tue credenziali di Ateneo. Con smartphone, tablet o PC, vota sulle schede a te assegnate e fai la tua scelta. Il tuo voto è prezioso. Scegli i tuoi rappresentanti in Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Nucleo di valutazione, nel Comitato unico di garanzia, nel Comitato per lo sport, nel Comitato paritetico dell'Ardsu, azienda regionale per il diritto allo studio universitario, nei Consigli delle strutture primarie, nei Consigli dei corsi di laurea, nel Consiglio della Scuola di specializzazione in beni archeologici, nel Consiglio del Dottorato di ricerca in scienze agrarie, forestali e degli alimenti. Il tuo voto serve a migliorare la qualità del tuo Ateneo e della tua vita universitaria e didattica. Hashtag adesso tocca a te! Grazie a tutti!